Cesso di essere indifferente Sono Luigi, ho 18 anni e devo fare il terzo liceo classico a Firenze Sono Maglio, vengo da Roma e frequento il quarto anno di economia all'Università della Sapienza Allora Lorenzo, 23 anni, faccio il Damoso a Torino, ma vivo a Milano Allora, siamo in Nicaragua Quando abbiamo deciso di partire, pochi di noi sapevano con precisione dove fosse questo paese E quali fossero le sue caratteristiche In effetti non è inserito nei classici percorsi turistici E non si segnala per nessun motivo in particolare Già come un po' più pimpante Vabbè, continuo io Il Nicaragua è un paese del centro America, tra l'Honduras e la Costa Rica Conta un po' più di 3 milioni di abitanti ed è uno dei posti più poveri del mondo Come se non bastasse, c'è stata una dittatura per 40 anni Seguita dalla guerra civile che per più di 10 anni ha distrutto il paese E lasciato un segno difficile da cancellare La sua economia si basa sull'agricoltura e allevamento Ed essendo povero di materie prime è costretto ad importare petrolio e materiali Qual è la capitale del Nicaragua? Managua Lo so Anche perché c'è scritto Managua Come in tanti paesi poveri c'è un evidente contrasto tra la ricchezza ostentata da pochi E la miseria più disperata Insomma, il Nicaragua è un paese indebitato fino al collo E con poche speranze di sviluppo Scusa Scusa Natu, siccome è delicata la cosa che c'è la dico io Allora, l'ICU è un'organizzazione che da 30 anni fa progetti di cooperazione nei paesi poveri In Nicaragua ha scelto una zona depressa e lì sta costruendo una scuola professionale Per migliorare le tecniche locali di coltivazione del caffè E sta promuovendo un progetto di rimboschimento attraverso la creazione di un vivaio Che fornisce piante agli agricoltori locali Ha poi scavato un pozzo che porta acqua potabile alle famiglie della zona E all'interno di questo progetto di sviluppo si inserisce la nostra missione umanitaria Scavare 11 latrine per gli abitanti di Diriamba Scavare latrine, proprio così, sarà questo il nostro lavoro Per due settimane scavare latrine? Non è facile, adesso vedrai come lo fanno Col badile Col badile, capito? Ma non solo 3 metri di varia roba E lì ci sono dei moscerini che sono lunghi Però è tosto ma è utile Beh certo, è utile, sono lì apposta Poi sono tutti studenti, no? Poi non sono abituati, quindi fanno il doppio della fattigia Sai le vesciche sulle mani dopo che usi quel badile Però ti dà soddisfazione Capisci tante cose col lavoro Abbiamo scelto di costruire delle latrine Perché presentano una serie di vantaggi non indifferenti E soprattutto consentono di supplire in maniera immediata I bisogni elementari delle persone Le persone che abitano in questa zona Hanno difficoltà alla costruzione di latrine Più che altro relativamente all'acquisizione del materiale Questa è un'acquisizione del materiale Questa è un'acquisizione del materiale Questa è un'acquisizione del materiale A 12 e pancreare delle ederze Qui Sono tramite persone che sono dejando i posti 幫住 창i e non hanno lavoro Io, mia esposa, io, due figli, piccoli, qui dorme il maggior. Per qualsiasi persona viaggiare è sempre utile perché ti apre la mente, ti apre la testa e ti dà nuove esperienze. Per un giovane europeo andare in un paese come Nicaragua è ancora più utile perché vede un mondo completamente nuovo, una maniera di vivere completamente diversa, vede delle necessità e delle difficoltà nella vita di tutti i giorni che sono completamente diverse di quelle che abbiamo noi in Italia, per esempio. La giornata per sei giorni la settimana è scandita da orari precisi. Sveglia alle sette del mattino. Che tu non l'hai mai fatto. Solo quando andavi quelle gite in montagna all'oratone. Esatto, esatto. Per chi vuole ce l'ha messa nel villaggio e dopo una colazione a base di riso e fagioli via a lavorare. Riso e fagioli, eh? Eh sì. Non latte. Va bene, insomma. Prima però si va al mercato e si fa il pieno di ananas e banane che per molti diventano una colazione alternativa. Perché per la camminata, no? Ci vogliono molte energie, eh? I fagioli ti danno quell'energia lì. Sì, ad areazione, diciamo. Propulsiva. Propulsiva. E ti aiutano a camminare. Esatto. Sono Luigi, ho 21 anni e studio il quarto anno di filosofia a Firenze. Sono Tommaso, ho 22 anni, faccio il quarto anno di giurisprudenza a Napoli. Sono Marco, ho 20 anni e studio odontogliatria a Genova. Ogni giorno, dopo 10 chilometri di una striscia di asfalto che pare più un groviera che una strada, scarichiamo l'acqua e la frutta dai polmini, che ce li carichiamo sulle spalle e iniziamo a percorrere lo sterrato, che dopo un'ora di cammino ci farà arrivare al posto dove lavoriamo con le papole sotto i piedi. Beh, ci credo. Un'ora di cammino su quella strada, ma che roba. Allora, superato l'entusiasmo dei primi giorni, percorrere con lo stesso sentiero diventa noioso. La stessa polvere, lo stesso sole sulla nuca, la stessa paura del serpente corallo di cui abbiamo sentito parlare fin troppo. Ma soprattutto, diciamo... Ebbene, è famoso il serpente corallo proprio perché dopo sette passi muori. No, quello è il serpente di sette passi. Il serpente corallo è un altro velenoso, ma non da sette passi. Ne fai almeno dodici, credo. Comunque, quando arrivi c'è di bello che c'è qualcuno che ti aspetta. Miii, il serpente corallo! Eh, ma è morto. E deve essere stato morsicato dal serpente dei sette passi. Sono Gaetano, studio a Napoli, economia e commercio al terzo anno, ho 21 anni. Sono Daniele, vengo da Milano, ho 24 anni e sto lavorando nella società di consulenza. Sono Paolo, ho 29 anni, sono prete da qualche mese fa e abito a Roma. Ecco, il primo giorno ci si deve ambientare. Si fa la prima conoscenza con la gente del posto. E lì apprendiamo che l'acqua corrente non c'è e che un uomo della famiglia va due volte al giorno a prenderla giù al fiume, e nel migliore dei casi a cavallo. Ecco, loro vivono soprattutto, non soprattutto perché non sono cinesi, di agricoltura e di allevamento, vitelli e qualche maiale. Questa è una che cucina, da Dio. È uno spezzatino di maiale, che è un bijou. Allora, vedi, sto tipo è andato a prendere l'acqua, ha fatto 10 chilometri col cavallo, un giorno va lui, un giorno va suo figlio. Un giorno è il cavallo. Che? Hanno insegnato al cavallo a prendere l'acqua. Eh, haciallo zoccolo pensile. Ah sì, mica raggua. Ecco, il capomastro ha spiegato come scavare. Si traccia il perimetro delle latrine e via di picchetto più non posso. Non è difficile, però è una fatica spaventosa. Perché sono studenti e non ho mai lavorato. Non ho mai lavorato. Qui imparano la saggezza della vita. Guarda il cucurito! Guarda, qui sta andando giù da bestia, scavano mi sembra a tre metri, una roba del genere. Banane. Giovanni, esa amica Cartini. Questa è la scuola, vedi? Bambino e adesso c'è la maestra. Ellos quieren estudiar, però il problema de ellos è la situazione che no, che se papà no tiene, no pueden ellos tener otras perspectivas è una situazione che no vive. Ho deciso di venire qua per dare un cambiamento a mia vita dal momento che dopo che sei venuto qua non si può tornare a casa nel stesso modo in cui si è partito insomma. E quando si smette di scavare perché si prende un po' di riposo o qualcuno magari si mette a insegnare. Ecco, quanto fa 15 per 7? Io ho fatto fino alla tabellina del dolci. Forse anche a te un viaggetto così non ti farà gatto. Ecco. O scavano di brutto. Eh sì. Questa è l'aria, diciamo, è il dentro della casa, ma il giaff familiarizza con i bambini. Vedi, una trottola. Quella è una trottola? C'è un'occhio da bambino. Prudimentale, ma è una trottola. Non si gioca più con la trottola. Ecco, questo è il medico. Sembra un turista. In realtà sta andando a visitare e a verificare il fatto di salute di quelli del posto. E intanto quelli in scavano. E intanto quelli in scavano. Ora questo chiacchiera perché già si inizia a familiarizzare in un certo modo che ha bisogno di quelli del posto. Ma quello là è una sete della miseria. Ebbene, non ha mai lavorato in vita sua. Allora, poi, penso a doversi portare l'acqua da casa e non direci, apri un rubinetto e scende. Lì non scende. E lì bevi solo quando hai sete. Lì bevi quando hai sete, però ti viene più sete. Perché dici, non c'è. L'ananas, lì è buonissimo l'ananas. Ecco, è una specie di festa. Ah, la pignatta. Solo che anziché la pignatta c'è il pupazzo. C'è il pupazzo. C'è il sole cocente. Ogni mondo è paese, Giovanni. Più o meno è così. Hai visto? Il cesso progredisce di centimetro in centimetro. E infatti? C'è la fila, già hai visto? Stiamo aspettando che finisse per forza. Eh, sobrio ma bello. Sì, sì. Sarà dovuto funzionare. I ragazzi sono tutti universitari che provengono da diverse città italiane e sono estremamente contenti. Vengono volentieri a lavorare a questo tipo di realtà, anche se ci sono condizioni che sicuramente sono molto diverse rispetto a quelle del mondo occidentale. Riescono a divertirsi e soprattutto trovano grande stimolo nel contatto con la popolazione locale, con la quale stabiliscono dei rapporti veramente molto belli, che a volte si mantengono anche al termine del campo di lavoro e anche con contatti epistolari. Oh, nei fini di settimana si approfitta per vedere le bellezze della natura di questo paese. Un po' di sano riposo. E si possono vedere delle cose bellissime, la costa del Pacifico, il vulcano Masaia, il laco di Nicaragua che sembra un mare. Ecco, attenzione, questa comunque non è una vacanza. Chi ha detto che è una vacanza? No, e non solo, i ragazzi pagano il viaggio per andare. Non è che sono lì a UFO come io. Ah, cioè tu mi stai dicendo che pagano il viaggio per andare in Nicaragua. Ti fai un mazzo così, no? Certo, per scavare. Beh, però... Perché non è una vacanza, è una cosa che ti faccia... Ti porti a casa che cosa, Giovanni? Dei sassi del vulcano. No, no, un grande senso interiore, lascia perdere. Certo, questo sì. Basta vederlo. E questo è il mar, in spagnolo, è il mar. E invece è il lago? È il lago, è il lago del Nicaragua. È il lago. Che sembra un mar. Capacchione, un mago. Ma fa anche il bagno. Cosa è questo? È l'estuario. L'estuario di che? Non lo so, il fiume del lago. Sono Gian Maria, 18 anni, liceo scientifico Canizzaro, Roma. Sono Gianluigi Modesti, ho 25 anni e faccio il tecnologo all'Istat. Sono Davide, vengo da Trieste, il secondo anno sono qui in Nicaragua e in un altro anno penso di fare ingegneria civile. Ecco, sono arrivati all'ultimo giorno e organizzano una festa, dai bambini agli anziani del villaggio. Tutto il villaggio. Tutto il villaggio, vedi, tra l'altro indossano il vestito migliore che loro ne hanno uno, quindi è un grande onore per tutti. È bello, il vestito della festa per noi, carina. Ma è stata un'esperienza esagerata. La festa per noi, secondo me, qualcuno ha anche pianto. Io penso che a voi è una grande cosa che venivano qui, a questo luogo. Qui è nascito, 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 in mio luogo. Quindi, quando ti deb outcome vi faccio, qui fordiso, qui è nascito, qui è nascito, qui è nascito. Grazie a tutti. Oh ragazzi, è una domanda provocatoria però, non la prendete, capito? Una domanda giusta per parlare tra di noi. Scusa, non ho capito. Eh, volevo fare una domanda provocatoria. Sì, così tanto perché... Non ho capito, non ho capito. Ma se ti toglie il gufio magari capisci? Ah, scusa. E basta, non dico più niente. No, dai, grida. Ah, già, adesso glielo, alto. Eh, scusa, mi disponi. Questi volontari, volevo dire, no? Questi volontari che pensano di cambiare il mondo, cioè io, tanto di cappello è provocatoria comunque, no? Che pensano di cambiare il mondo facendo 12 latrine nel Nicaragua. Non è un po' che... Non so, è provocatoria, non so... Secondo me loro non pensano di cambiare il mondo, loro sicuramente questa esperienza cambia loro stessi, per cui un pochettino cambiano anche il mondo, capisci? Cioè, la scioma... La scioma...